Ripartire dai giovani per ricostruire il mondo del lavoro. La ricetta sembra semplice, la questione è come attuarla. Riparte dal problema dei problemi la riflessione della CGL sul tema dell'occupazione. Nel giorno in cui i dati Alma Laurea certificano la difficoltà dei ragazzi laureati a trovare un lavoro possibilmente ben retribuito, nel congresso della Camera del lavoro metropolitano e provinciale che si è tenuto a Bari. Dalla relazione del segretario Pino Gesmundo alle riflessioni degli ospiti, incentrate sulle possibili soluzioni. A partire dal Jobs Act del Premier Matteo Renzi, incline a tirare diritto di fronte a eventuali stop da parte dei sindacati. La precarietà del lavoro, per chi ce l'ha e per chi lo cerca, è una condizione di solitudine. Allora noi abbiamo bisogno di rompere il muro della solitudine e di restituire una prospettiva che non può che essere una prospettiva collettiva. Finora, diciamo così, abbiamo assistito a una dimensione pirotecnica degli annunci. Ora aspettiamo che si possa intravedere qualche cosa di concreto. Io spero di essere stupito. A parlare di giovani e lavoro a Bari c'era anche il segretario generale della CGL Susanna Camusso, che ha partecipato a una tavola rotonda con alcuni lavoratori precari under 35. Avremmo voluto porle alcune domande sulle grandi questioni che affliggono tanti lavoratori del nostro territorio, ma il segretario ha preferito declinare il nostro invito rispondendo solo alle testate nazionali.